Musica Buonasera, un accordiale saluto dalla redazione di On Air News. Partiamo dall'ondata di maltempo che sta interessando anche la nostra regione, come peraltro altre zone del paese. È arrivata nell'entroterra la prima neve della stagione che ha interessato in particolare l'alto maceratese del Monte Feltro. Una coltre di circa 15 centimetri ha imbiancato Visso, Ussita, Castel Sant'Angelo sul Nera, ma anche Pieve Bovigliana, neve pure a Camerino e Cingoli ed in misura minore a Camerino e Cerreto Desi. Aperti gli impianti sciistici a Bolognola, disagi invece nelle strutture abitative emergenziali nel cratere, denunciati sui social dal Comitato dei Terremotati. Le condizioni meteo, ma lo vedremo al termine del nostro notiziario, dovrebbero migliorare nella giornata di sabato, pur con le temperature sempre particolarmente rigide. La tragedia di Corinaldo si farà sostenere volontariamente da una cooperativa sociale che aiuta giovani a reinserirsi nella scuola e a recuperarsi come persona. Il 17enne indagato per i fatti della discoteca Lanterna Azzurra, lui e la sua famiglia, riferisce il legale che lo assiste, avevano chiesto da circa un mese, quindi prima della famosa notte dell'Immacolata, il supporto per i ragazzi in una cooperativa sociale, per aiutarlo a recuperare gli studi, visto che aveva lasciato la scuola. Il servizio di apertura di oggi, il punto sulla ricostruzione sul ruolo delle imprese edili marchigiane, nella giornata in cui il CEDAM ha ripercorso i suoi 20 anni di storia all'Abbadia di Fiastra, il servizio di Manoli Tascocco. La CEDAM, Cassa Idile Artigiana e PMI delle Marche, ha festeggiato i 20 anni di presenza sul territorio con una giornata all'Abbadia di Fiastra di Tolentino dedicata al grande tema della ricostruzione post-sisma. Prima con un convegno e poi con una tavola rotonda, i protagonisti, locali e nazionali, della Cassa, docenti e rappresentanti istituzionali hanno ragionato sui temi a questo mondo più cari e più in generale importanti per tutti. Sul ruolo delle piccole imprese marchigiane nella ricostruzione è intervenuto l'assessore regionale Angelo Sciapichetti. Assessore, il focus è sulla ricostruzione, sulla necessità di rispettare le regole. La CEDAM dice, vogliamo essere certi, sicuri, che questa sia una ricostruzione per il territorio, fatta con le imprese del territorio, nella massima trasparenza. Siamo assolutamente d'accordo. In quello che già sarà il cantiere più grande d'Europa c'è bisogno del rispetto assoluto delle regole, c'è bisogno che ogni organismo proposto ai controlli faccia la propria parte perché le infiltrazioni, la trasparenza assoluta e il rispetto totale di tutta la normativa e quindi della legalità è l'interesse primario di ognuno di noi che cammina di pari basso con la velocità della ricostruzione che dobbiamo accelerare. Nel corso dell'iniziativa sono stati premiati tre ricercatori dell'Università di Camerino per tesi di dottorato su tematiche legate alla ricostruzione post-terremoto. 1.500 euro ciascuno a ricercatori, due geologhi e un ingegnere a dimostrazione dell'attenzione reale e concreta della CEDAM verso chi studia e lavora per un futuro migliore. Riconoscimenti anche alle imprese con più anzianità di iscrizione alla CEDAM. Tra loro anche la prima, l'impresa Edile Saggi di Sabatini Gino, l'attuale presidente della Camera di Commercio Unica delle Marche. Brevi di cronaca, una donna di circa 80 anni è morta attorno a mezzogiorno in un centro commerciale a piedi ripa di Macerata, improvvisamente accusato un malore e nonostante l'intervento degli addetti con un defebbrillatore è deceduta a pochi istanti dopo. Una marocchina di 50 anni è stata arrestata nei pressi dell'Hotel House di Porto dei Canati, si trovava a bordo di un'auto insieme ad altre persone quando è stata fermata dalla Guardia di Finanza, cercato di disfarsi di mezzo etto di eroina, lanciando la scarpa contenente le dosi dal finestrino. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare è stato ritrovato materiale utile al confezionamento della droga e denunciati due cittadini pakistani. Cambiamo argomento e ci occupiamo di Orienta Marche che si è conclusa al Palasport di Ancona con la presenza di 2.500 studenti intervenuti per parlare di scelte per il futuro e illustrare le diverse opportunità di studio e di lavoro a loro disposizione. Sentiamo l'intervista con l'assessore regionale Loretta Bravi. Diamo degli input, non è una fiera, non c'è un marketing dietro per cui noi dobbiamo chissà quali prodotti elaborare o pubblicizzare. No, sono giornate nei quali si propone l'offerta marchigiana in tutta la sua diversificazione nel pomeriggio e la mattina invece è un momento didattico. È un'esperienza con la quale dobbiamo dare degli input e vogliamo dare degli input. E quest'anno abbiamo scelto di farlo con dei giovani. Abbiamo chiamato dei testimonial che hanno aperto delle opportunità nella loro vita e quindi dentro la fragilità che ogni scelta implica ma dentro la bontà di un bene che sta emergendo. Quest'anno poi abbiamo anche chiamato gli artigiani perché vogliamo sempre più avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro. Scegliere con degli indizi sul presente non bisogna strafare e quindi anche secondo le proprie attitudini non pensare che esistono lavori di serie A o di serie B. non è importante quello che facciamo ma come lo facciamo. E questa è la prima questione che mi interessa. Un'altra questione che mi interessa come insegnante e che auguro a questi ragazzi che sono stati attentissimi questa mattina e sono veramente commossa della capacità di essere così attenti e così silenziosi possono trovare degli adulti capaci di accompagnarli perché ognuno di noi ha bisogno di un accompagnamento e di un'accoglienza. Sta per partire la sesta edizione di Grand Tour Cultura 2018. Dal 15 dicembre infatti le istituzioni culturali marchigiane saranno mobilitate per offrire lo spettacolo della cultura fino al marzo dell'anno prossimo. Si propone ai numerosi musei, pinacoteche, biblioteche ed archivi di utilizzare le proprie sedi come ideali palcoscenici per far conoscere e valorizzare la ricchezza e la qualità del patrimonio in essi conservato. Ad oggi hanno aderito 90 istituti per un totale di più di 120 eventi. È stato stipulato un protocollo d'intesa che mira a rafforzare il coordinamento investigativo tra l'autorità giudiziaria e l'amministrazione finanziaria nel settore dei reati tributari attraverso una maggiore circolarità delle informazioni. L'intesa, firmata presso la Procura Generale di Ancona che si innesta in un contesto di una consolidata collaborazione tra diverse istituzioni, favorisce e semplifica il flusso informativo anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate. Nella prospettiva si legge in una nota di un sostanziale miglioramento dell'efficacia complessiva dell'azione di contrasto all'evasione fiscale e ai reati tributari in materia di imposte sui redditi ed IVA. E parliamo ora con questa intervista di procedure di stabilizzazione per il personale precario dei centri per l'impiego. Sentiamo. Vicepresidente Minardi d'attualità il dibattito sulla riforma dei centri per l'impiego lei ha presentato un'interrogazione in Consiglio regionale ecco, su quale aspetto voleva porre l'attenzione? I centri per l'impiego sono una parte importante essenziale per il sistema del lavoro della nostra regione le funzioni sono passate dalla provincia alla regione ed abbiamo ereditato 80 precari che avevano bisogno di una stabilizzazione del loro contratto di lavoro. in base alla legge Madia con l'applicazione di questa norma di legge di questi 80 precari 74 vengono stabilizzati e quindi diventeranno lavoratori a tempo indeterminato. questa è una cosa molto importante perché dà stabilità a questi lavoratori, alle loro famiglie ma dà stabilità anche ai servizi che sono servizi importanti e vorrei aggiungere una parola nei confronti di queste persone perché insieme ai loro colleghi hanno retto il sistema dei centri per l'impiego nei momenti della grave crisi economica quando i nostri sportelli erano sovraffollati. e siamo alla pagina sportiva di oggi con la presentazione dei principali avvenimenti agonistici del weekend partendo ovviamente dal calcio dove Lascoli domani alle 15 attende la visita del Cittadella al Del Duca arbitra Gherzini di Genova due assenze pesanti per squalifica Ninkovic che rientrerà con il Brescia e Rossetti mister Vivarini tuttavia ha molte frecce al suo arco in una gara comunque di grande importanza per la classifica in Serie C tutte in campo di sabato le marchigiane aprirà alle 16.30 il Fano sul campo della Virtus Verona scontro diretto per la salvezza con Giordano Fioretti che risolve consensualmente il contratto con la società Granata alle 18.30 la fermana senza Giandonato e Sarsi Puttini sarà sul difficile campo del Limolese una delle rivelazioni del torneo mentre la San Benedettese attende il Rimini chiuderà la vispesa alle 20.30 al Benelli con il Teramo per far sognare ancora i propri tifosi in Serie D la recanatesa ha ceduto oggi il difensore spagnolo Routiens alla Cesena un acquisto quindi di grande spessore per il club romagnolo impegnato nel duello con il Matelica vediamo comunque cosa ci proporrà nella servizio la diciottesima giornata Penultimo turno del girone di andata in Serie D torneo sempre più entusiasmante per il testa a testa in vetta alla classifica e la sanguinosa lotta per emergere dai bassi fondi il Matelica dopo la giornata infrasettimanale ha conservato un punto di vantaggio sul Cesena ma avrà un compito molto ardo seppur casalingo affrontando il rafforzatissimo campo basso con pagine che non merita certo l'attuale posizione di classifica in più dovrà fare a meno di Losicco ossia il playmaker della squadra e dell'attaccante Florian entrambi squalificati al pari dell'allenatore Luca Tiozzo i romagnoli invece saranno a Castelfidardo contro i biancoverdi attualmente ultimi massacrati anche dalla sfortuna e reduci da tre sconfitte consecutive sembrerebbe un match senza speranza per i ragazzi di Vagnoni che ovviamente si affideranno alla grinta e dalla combattività in questa missione sulla carta quasi impossibile San Giustese che proverà a continuare a stupire con il suo terzo posto e la possibilità di consolidare ulteriormente questa posizione nella gara interna contro una Savignanese comunque da non sottovalutare la Re Canatese cerca in trasferta di riscattare il capo di mercoledì andando a Sant'Arcangelo sul campo della formazione più in difficoltà del Girone che non vince da dieci turni e con tre sconfitte in casa nelle ultime tre gare anche per questo meglio diffidare scontri diretti fondamentali invece per Iesina e Montegiorgi impegnate rispettivamente a Forlì e Dagnone entrambe hanno l'obbligo di fare punti per non complicarsi la vita si riprende in eccellenza dopo lo stop per la tragedia di Corinaldo la leader Fabriano Cerreto sarà sul campo del Marina mentre il Tolentino che insegue ad un punto riceva il della vittoria alla Biagio Nazaro-Chiaravalle interessante anche il confronto tra Montefano-Porto-Santelpidio come pure il derby Sasso-Ferrato-Genga per Golese Uno sguardo come sempre alla promozione dove nel Gironeal Anconitano dovrebbe sbarazzarsi senza problemi del Villa Musone mentre la Vigor Senigallia riceve la Filottranese nell'altro raggruppamento Big Match alle 18 di domani tra Val di Chienti Ponte ed Azzurracolli Siamo ora al basket con la VL Pesero che affronta il primo di due turni casalinghi consecutivi domenica alle 19.05 contro la Vanoli Cremona una delle compagini migliori del campionato INA2 cerca di tornare al successo casalingo la XL Extra Light contro Piacenza mentre Iesi riceve Imola Della poderosa Monte Granaro parleremo ampiamente nel corso di Big Basket domani alle 13 sul Canale 11 con l'assistant coach Stefano Vanoncini chiaro comunque l'obiettivo dei gialloblu di centrare il prestigioso traguardo delle finali di Coppa sfiorato l'anno scorso ed ora vediamo le previsioni meteo per sabato 15 dicembre Quanto è grande il tuo desiderio? Moplan Arredamenti lo sa perché ha tutti gli strumenti per realizzare la tua casa su misura grazie alla moderna e qualificata falegnameria interna nello showroom più di 1000 metri quadri completamente rinnovati per cucine, soggiorni e divani fino al 31 dicembre offerte speciali su tutti i nuovi arrivi rateizzazioni fino a 20 mesi a tasso zero una casa su misura anche delle tue tasche Moplan Arredamenti Castelplanio Ancona Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsioni per sabato 15 dicembre al centro residui e piogge tra Marche, Abruzzo e Molise e inoltre sul Lazio Meridionale tanto sole invece altrove con il cielo che sarà sereno o con presenza di poche nubi a carattere sparso migliorerà ovunque entro la serata Il clima risulterà piuttosto freddo le temperature minime infatti saranno comprese tra meno 5 e 14 gradi Per quanto riguarda invece le massime prevediamo non più di 9 gradi al nord fino a 13 gradi al centro e fino a 17 gradi al sud Nella pallavolo di Superlega impegno sulla carta agevole per la Lube contro Castellana in attesa di poter ufficializzare il nome di Fefe De Giorgi quale nuovo allenatore Domani anticipa anche la Lardini Filottrano che cerca conferme dopo il bel successo ottenuto contro Cuneo nella trasferta molto difficile di Bussar Zizio contro l'Iwork di coach Mencarelli alle 20.30 squadra Lombarda secondo in classifica In a due la Mengishus affronta lo sconto diretto di Reggio Emilia mentre la Golden Plus Potenza Picena sarà a Livorno Ricordiamo stasera il volley di Spiker alle 21.30 canale 111 dalle 22.45 canale 11 con Riccardo Modica e Pierpaolo Partenio della Pallavolo Macerata e con questo è tutto grazie per averci scelto e buon fine settimana Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.